Buonasera a tutti, passiamo subito la parola a Dottoressa Iollo per l'appello. Buonasera a tutti, innanzitutto salutandovi vi chiedo e faccio appena a tutti voi per il buon andamento dei lavori di Consiglio Comunale, di cercare di rispettare i nostri ruoli e soprattutto l'istituto del Consiglio Comunale che rappresentiamo. In questo Consiglio Comunale ci saranno anche delle interrogazioni, un esempio veloce, alcune interrogazioni sono arrivate con un simbolo non di vista nel conosciuto, sono state ammesse perché comunque sono interrogazioni che andavano ovviamente risposte, però cerchiamo effettivamente di pensare ad esempio quando siamo qui e di darmi una mano a fare il Presidente, di rispettare l'istituto di Consiglio ai nostri ruoli. voglio però in questo momento innanzitutto salutare, unendomi a voi, un amico che ci ha lasciato questa settimana, Angelo Ciccone, ex amministratore e sindacalista sempre attivo nella politica sia locale che nazionale nella difesa dei diritti dei lavoratori. Passo subito la parola al Sindaco per le pubblicazioni. Buonasera, io asso solo il saluto all'interno Consiglio Comunale, alla segretaria, al dottore Borgillo, ovviamente essendo questo Consiglio importante per le mani di bilancio quindi serve di intervenire durante il percorso del Consiglio, condivendo anche l'appello del Presidente. Grazie Sindaco, passiamo quindi all'approvazione dei verbali della seduta precedente, chi è favorevole? Un'attività. Quindi approvati i verbali della seduta precedente, colgo l'occasione anche per salutare l'assessore esterno, qui sempre presente con noi. Il secondo punto all'ordine del ritorno è subito un'interrogazione, un'interrogazione sull'istituzione dei progetti di utilità collettiva del DEPUC con il protocollo numero 15382 del 2022. Ovviamente tra l'interrogazione è firmata a Movimento 5 Stelle quindi il consiglio di del Cesare Vicente, il prego per l'esposizione. Buonasera a tutti, con il Vecchia Necronetti e Neula. Ho ripresentato questa interrogazione a seguito di una mozione che ho presentato nel 2020. e per sapere appunto qual è la situazione attuale per quanto riguarda questi progetti. In realtà era un provvedimento del 2019 dove i comuni avevano servizi di tempo per poter attuale attuale, nel 2021 si era parlato che si iniziava appunto per uno studio di progettazione per la verificazione di come creare dei progetti utili e poi sempre nel 2022 e finalmente sono riuscito a creare un progetto. Io ho in realtà con le progetti che sono diversi attualità come in ambito culturale, in ambito sociale dove si può aiutare le persone anziane eccetera eccetera, tutti li conosciamo, l'ambito artistico, l'ambiente eccetera. E a fine di questo avevo preparato tre domande alle quali volevo in effetti sapere. cioè quali sono stati i motivi che hanno determinato il ritardo dal 2019 fino al 2021, quali sono stati i ritardi causati dalla mia presentazione della mozione nel 2010 e quanti sono a tutt'oggi i percettori del rete cittadinanza e quanti ne sono stati implicati. Quali altri interventi adesso attualmente saranno stati valutati o pianificati per garantire questo servizio in virtù del fatto che i comuni possono impiegare un terzo del totale dei percettori. perché quella cosa è che appunto questi primi interventi sono stati fatti al momento. Grazie. Grazie consiglio Lucitelli. Risponde l'assessore Veronica Lund. Buonasera a tutti. Allora, l'attivazione dei book che sono i progetti utili della collettività passa attraverso una piattaforma che viene fornita a tutti i comuni. Quindi questa piattaforma è la piattaforma GENVI e attraverso questa piattaforma noi possiamo accedere e vedere quali sono i beneficiari del rete cittadinanza del nostro comune e oltre che sono assegnati innanzitutto al nostro comune ai nostri servizi sociali e quindi procedere poi alla valutazione e alla progettazione individuale per ogni singolo beneficiario. L'attivazione di questa piattaforma e quindi l'invio delle credenziali al nostro ufficio è stata a data 14 aprile 2021. Quindi le credenziali a noi sono state inviate per la piattaforma 14 aprile 2021. In questa data il nostro ufficio era già pronto, avevamo già individuato tutti e quattro i progetti di pubblicabilità con le libera di giunta, tra l'altro era prevista anche una formazione del personale che avrebbe dovuto accedere alla piattaforma, questa formazione nel mese di marzo non ancora ce l'ha stata fornita, abbiamo provveduto noi autonomamente, infatti c'è anche una determina del dirigente per provvedere quindi alla formazione di tutto l'ufficio e quindi abbiamo anticipato i tempi in modo che il 14 aprile quando poi ci sono state fornite le credenziali eravamo già pronti per partire direttamente. La formazione ci doveva essere fornita dall'ambito territoriale purtroppo causa pandemia era stata bloccata quindi non abbiamo deciso di anticipare i tempi. Inoltre due giorni dopo il 16 aprile 2021 l'onorevole del sesto e l'ex ministro al lavoro Catalfo invitavano me in qualità di assessore agli politici sociali di questo comune a partecipare ad un convegno dove era presente anche lei su dove si parlava bene delle pratiche nel senato dal nostro comune. Quindi eravamo il comune di Santa Maglia Vico, il comune di Pago e il comune di Cesa, i tre comuni che erano partiti e che erano stati i primi a partire per quanto riguarda l'attivazione dei BUC sul territorio regionale. Quindi sottolineo ancora una volta che sono stati proprio i vostri rappresentanti di partito nazionale a complimentarsi con noi perché siamo stati poi i primi a partire con questa attività. Passando alle altre informazioni, i percettori di reddito e cittadinanza assegnati al nostro ufficio servizi sociali sono 207. Altre famiglie sono percettori di reddito e cittadinanza ma sono assegnate al centro per l'impiego, quindi se ne occupa direttamente il centro per l'impiego. Quelle a cui noi abbiamo accesso attraverso piattaforma sono 207. Dopo questa assegnazione che viene fatta dall'INPS, il nostro ufficio attraverso gli assistenti sociali fa una prima convocazione del singolo percettore, nel caso questo non si dovesse ripresentare lo riconvoca una seconda volta, nel caso questo non si dovesse ripresentare l'ufficio della Polizia Municipale lo sa benissimo, hanno tre possibilità quindi dobbiamo inviare tre notifiche a questi percettori, quindi dobbiamo convocarli per tre volte dopodiché se non si presentano, si disertano anche dopo la terza notifica inviamo la segnalazione di revoca e quindi revotiamo il reddito di cittadinanza. Il nostro ufficio ha revocato 41 redditi di cittadinanza in questo anno, dal 14 aprile 2021 ad oggi. Scusa, basta un membro della famiglia che è un percettore, non dovessi essere necessariamente il percettore? Un membro, sì, ma se non si presenta nessuno, noi ne abbiamo revocati in 41. Sì, quindi poi invece per coloro che si presentano si procede ad un'analisi preliminare, poi in base alle attitudini vengono ovviamente assegnate ai vari progetti. Come si può capire, non è un lavoro che si fa dall'oggi al domani soprattutto quando non si presenta, ma è un lavoro lungo previsto dalla normativa e quindi per questo voglio ringraziare l'Ufficio Servizi Sociali, il responsabile del sede del Dio che insieme all'assistente sociale ha fatto veramente un lavoro egregio e ad oggi il nostro ufficio ha realizzato il concluso, chiuso 178 pratiche su 207 e di questi 178 casi, famiglie analizzate, 60 persone sono risultate donne per essere impiegate all'interno dei progetti utili alla collettività. Ad oggi 20 di questi 60 individuati hanno concluso, hanno partecipato ai progetti e nei prossimi, negli altri 40 parteciperanno alla rotazione a scaglioni, parteciperanno per tre mesi, poi verranno assegnate questi altri progetti. In realtà inizialmente i progetti duravano sei mesi, quindi facevamo due rotazioni all'anno, però visto che abbiamo individuato 60 persone che possono partecipare a queste attività, abbiamo deciso di ridurre il progetto a tre mesi in modo da impiegare tutti quanti. poi le do altri dettagli, sul 178, 38 sono i casi di esonero che sono previsti dalla normativa, quindi per carichi di cura, donne che hanno figli di età interiore a tre anni, persone che hanno lavoro dipendente o subordinato, poi i 23 sono invece gli esclusi, quelli che vengono esclusi da questo tipo di attività perché la normativa prevede questo, se hanno un'invalidità perché gli invaldi non partecipano ai progetti utili alla collettività, 41 come ho detto prima le revoche e 13 invece sono decaduti per varie cause. quindi concludendo volevo dire che abbiamo fatto un buon lavoro, credo anzi un bel lavoro, che l'ufficio si è attivato da subito e in realtà non c'è stato nessun ritardo, anzi su molte cose ci siamo anche anticipati, come abbiamo detto abbiamo ricevuto i complimenti dal ex ministro e da un onorevole in carica, quindi credo che il ritardo non ci sia assolutamente stato. Grazie Assessore, interrogate al diritto di dichiarare, se soddisfatto o meno. Mi ringrazio della risposta, il motivo per il quale ho presentato questo è proprio perché tutti parlano dei recettori delle cittadinanze, cosa fanno, dove sono, cosa fanno, almeno adesso pubblicamente abbiamo spiegato che esiste una prassi da seguire, non è una cosa che la mattina o la notte c'è dobbiamo, c'è possibilità ovviamente anche di persone che si possono offrire volontari, con cui si possono offrire volontari, per cui tra questi percettori, se c'è qualcuno che in effetti vuole dare una mano perché sono sicuramente dei progetti davvero, che si chiamano utili perché lo sono davvero, ben che vengono e poi io sono sempre a disposizione per qualsiasi collaborazione per quanto riguarda questo progetto. Va bene, grazie. Grazie, grazie consigliere Viscitelli. Passiamo all'ordine del loro numero 3, interrogazione Campus Scolastico protocollo 15 562 del 2022. Questa, come quella successiva, è stata presentata verso una carta intestata gruppo consigliere di opposizione che, come abbiamo detto, non è comunque esistente, però firmarla la prossima volta accoglieremo quelle con simboli rufficiciali o comunque, in questo caso, firmata dai consiglieri di minoranza quindi, firmatare da Pasquale Viscice, non so se la dichiara il consiglio di seriousness. Molto brevemente, Presidente, prima cosa mi voglio anche io ricordare chi è un avversario politico, ma sempre nell'interesse della città e del suo lavoro. Poi vorrevo anche intervenire sulla vostra attenzione che dobbiamo dare ai ruoli istituzionali, invitando anche dal punto di vista dell'opposizione a rispettare il ruolo istituzionale, soprattutto dopo quello che è avvenuto al Consiglio Comunale precedente. Per quanto riguarda il problema del simbolo, ve l'abbiamo già indicato nell'indicato gruppo, siccome Cesare si diverte graficamente, allora ho deciso di fare questa, è un fatto grafico. E lei con Valescenza avevamo anche capito. Per quanto riguarda la interrogazione presentata, prevede due domande molto chiare. Cioè, voglio dire, oggi penso che domani, che oggi è 20, domani 21 luglio è un anno dalla acquisizione di questa gara che ha fatto una formula diversa e dopo un anno deve essere presentato un progetto definitivo. Noi, in questo caso, non è come l'altra volta, questo lo volevo dire, anche l'altro gruppo di maggioranza, noi non stiamo facendo un'interrogazione, non è la stessa dell'altra volta, cioè, vogliamo chiarire, in questo caso, l'altra volta parlavamo di una programmazione politica che è ben diversa dal lavoro specifico. Quindi noi vogliamo conoscere come, tra le tante domande che cerchiamo di fare per avere risposte, quando, essenzialmente, inizieranno i lavori, il cronacrogramma, anche perché abbiamo bloccato cittadini che hanno dovuto avere un esploro per quel bene. Cioè, da un anno non sanno dei loro beni che cosa ha. Quindi abbiamo chiesto specificamente con due domande quale è l'iter del campus scolastico. Grazie consiglio di denuncio. Passo la parola al sindaco per la risposta. Risponderò subito e vi comunico che la risposta, l'ho fatto per scritto, poi rimarrà agli altri, così possiamo verificare le cose che diciamo avanti in consiglio comunale. In riferimento alla interrogazione specifica, si comunica quando segue. Il primo lotto del campus cittadino scolastico confermo è attuale e pagibile, quindi non c'è disturbi tardi rispetto alle procedure. Il finanziamento regionale di oltre 5 milioni consente di avviare la realizzazione del campus scolastico senza incidere il bilancio comunale. Le attività svolte sono le seguenti, quindi veniamo alle risposte specifiche. Sono stati definiti gli esplopi con l'accettazione dei proprietari. Attualmente i proprietari hanno ancora la disponibilità del fondo, fino a quando non si farà il decreto di occupazione. È stato ultimato l'appalto con l'affidamento alla società giubilatare con la procedure dell'appalto integrato. Appalto integrato significa che la giubilataria ha ultimato la realizzazione del progetto esecutivo, perché nella parte integrata è la giubilataria che deve realizzare un progetto esecutivo. Cosa è stata realizzata? E gli uffici, l'ufficio tecnico, in data 16.7.2022, sono stati chiesti i pareri all'astro con protocollo numero 13.515 e ai vicini del fuoco con protocollo 13.351. Appena acquisiti i pareri, perché sono obbligatori per dare iniziato, noi avvieremo il lavoro del primo lotto, per cui non solo i ritardi voluti dall'ultimo tecnico, che ringrazio l'ultimo tecnico e l'intera macchina amministrativa, che anche in momento di difficoltà, perché stiamo riorganizzando il settore, stanno lavorando in maniera egregia. E questo è per quanto riguarda il primo lotto, il lavoro delle tecniche, ma prima di parere, e chiaramente usaremo il seno. Vi comunico al Consiglio Comunale che il Presidente di noi ci tiene, ha iniziato a essere presente, perché ovviamente inizierà una serie di attività per quanto riguarda l'equizzo scolastico, probabilmente Sanca Maria Vigo, con la programmazione gennale dell'equizzo scolastico, è il primo comune che abbia questo tipo di programmazione. Ci sono altri enti che apportano il finanziamento, ma non sono ancora molto, ma molto in realtà, perché abbiamo esperienza anche in presente. Secondo, il posto di finanziamento per l'abilità è di 1.628.000 euro, perché avendo avuto noi il primo lotto di 5 milioni, è stato ridotto a 1.628.000 euro. Il finanziamento è sempre della Regione Calvara, senza decidere del bilancio comunale. Attualmente sono stati definiti gli escropi, così come il primo lotto, con l'accettazione dei proprietari. E qui devo ancora dire che i proprietari attualmente hanno ancora la disponibilità del fuoco, fino a quando non si farà i dettagli di occupazione, per molestare che ci sta già l'accordo fatto con il luogo. Con il termine numero 12.32 del 22.12.2021, è stata avviata la placiatura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della direzione del lavoro. Una volta acquisita la progettazione, si avvierà la gara migliorativa, evitando così di fare una gara, che molti di voi anche questa hanno criticato, anche in generale si chiede, la gara con il massimo e l'impasto, quindi ufficio hanno programmato una gara migliorativa, perché si va a favorire, non gli impasti economici, perché poi non si lascia arrivare l'oro, a realizzare l'oro, ma una gara migliorativa che si va a garantire la qualità e l'intermedio del luogo e magari si va a realizzare. Per cui anche nel secondo lotto c'è una procedura in corso con questa attività avviata, con una determina che è gli altri, e rimaniamo agli altri, per l'affidamento della progettazione esecutiva. Una volta realizzato il progetto, possiamo avviare la faccia con questa tipologia. Grazie Sindaco, l'interrogante è a facoltà di dichiarare... E poi mi ha piacere che il Sindaco aumenta agli altri questo intervento, così si manda a futura memoria, anche per questo tipo, ci vedrà dopo di noi. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo al numero 4 dell'ordine del giorno, interrogazione servizio idrico, protocollo 15564 del 2022. Chi dei consiglieri firmatari? Ok, consigliere Pusci Pasquale, prego, ne ha facoltà. Buon pomeriggio a tutti. Beh, è inutile Sindaco che la leggo. Sulla questione a cui ne parliamo da recente ormai, quello che ci preme sapere, ma i cittadini e noi, cosa si sta facendo, cosa si sta pensando di fare, come vogliamo avvenire da questa situazione, ogni anno, anzi ogni anno, ci sono momenti in cui, veramente, come è successo l'ultima volta, l'acqua via 3-4 giorni, senza avviso, nonostante ci siano le condizioni belle, l'ho vissuto anche personalmente, per l'amore di Dio, però è arrivato il momento di darci da fare, ed è arrivato il momento di firmare anche questa benedetta convenzione con il consorzio, perché altrimenti ci danno sempre per spacciare in certe situazioni. Noi vogliamo sapere cosa si sta facendo e cosa si pensa di fare sulla questione Pozzo, atto e tutte le situazioni che adesso connessi. Grazie consigliere. Passo la parola al consigliere Vincenzo Munillo per la risorsa. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, la convenzione, il sindaco si serva di intervenire. Sì, a parte poi l'interrogazione... l'aspetto tecnico e delegato... ...è dettagliata, quindi ho preparato anche una risposta scritta che poi gli darò e venga a messo agli altri. Va bene, grazie, prego. Rispetto all'interrogazione del concetto, riteniamo sia priva di fondamenta e di storia la verità dei fatti, i quali risultano ben diversi. Innanzitutto voglio precisare che la gestione etica comunale è affidata all'ente gestore Consorzio di Potere di Lavoro CITL, il quale, sotto la propria responsabilità, propede al corretto funzionamento ed all'amutenzione dei pozzi di estensione di sollevamento presenti sul territorio ed alla riparazione delle dispensioni etiche alle condutture le quali vengono segnalate tramite la PEC dalla polizia municipale. Il gestore, tramite un sovegliante di zona, effetto il sopralluogo delle dispensioni segnalate e valutando in base alla pericolosità a rendita assoluta responsabilità della pubblica incolubità, dal momento della segnalazione ricevuta tramite PEC propede alla riparazione col ditta e incaricata con attestero e distino della pavimentazione. Riguardo al recente disagio prevenuto rispetto alla mancanza educazione etica solo in parte del territorio comunale è stato causato da interruzioni anomali di tensione elettrica portando alla rottura di un componente alla cabina elettrica Enel e il sistema allarme collegato con il gestore. È stato un avento eccezionale che in questa cabina da 20.000 volt capita quasi mai dato che viene alimentata direttamente da vigne esclusivamente dedicate proveniente dal territorio benaventano. Quindi ci si è accorgi del disagio solo nelle prime ore dell'alba. I necnici del consorzio subito avvisati prontamente si sono regati sul posto ed in modo cedere hanno sostituito tutti i componenti compromessi e azionati in polso. Verso le 11 11 e mezza era già il posto azionato. Chiaramente si è dovuto aspettare poi al riempimento degli accumuli cosiddette vasche affinché ritornasse la normale locazione nelle zone interessate ma comunque nell'arca della stessa giornata. Riguardo alla reale situazione di efficienza del pozzo alla stazione del modicello sono presenti due pozzi due pompe di isolamento e ognuno con guadalettrico autonomo e di perfette condizioni. L'impianto è continuamente monitorato oltre al controllo per i odici del personale addetto dell'andegestore CTL effettuando interventi di manutenzione ordinaria e programmata è presente un sistema di allarme GSM che in caso venisse a mancare energia elettrica il personale addetto viene alertato. Nel caso una bomba dovesse subire i quasti viene messa in funzione alla seconda bomba senza alcuna ripercussione alla corretta erogazione d'acqua. Quindi sistema funzionale in modo efficiente che soddisfa tutti i territori del nostro paese il quale uno dei pochi che nel periodo estico con l'attuale problematica di siccità e in obiettivo di crisi delle crisi idriche ha acqua potabile e soddisfazione. Accettando le condutture principali cosiddette adottici in crisi conservano un ottimo stato strutturale e funzionale tanto è vero che le riparazioni che vengono effettuate sul territorio comunale interessano prevalentemente sulle condutture dell'acina di pese essendo la maggior parte costituite in politica quindi dichiarare l'episodio come grado di servizio sembra assurdo essendo causato da fattori esterni e legati al fornitore di regia come si dice assurdo che il tale raro episodio si ritenga dalla minoranza grave in attenzienza di carattere eccezionale altri assurdi dati tenuti dalla minoranza quando è affermato che in merito all'assoluto abbandono delle frazioni e zone periferiche che non è che l'abbiamo detto tutta l'interrogazione allora zone periferiche e della mancanza di interventi anche minimali ritenendo loro la minoranza che questa amministrazione ha solo sbandonato parola senza fare parti allora ne approfitto rappresentando il nostro non fare ritenuto dalla minoranza verso le frazioni le zone periferiche frazione loreto abbiamo una sezione di sollevamento è una frazione loreto presente booster per potenziamento dell'interrazione sempre funzionante e sostituito pochi giorni fa con uno ex novo frazione maierli più sezione di sollevamento anche là prima esisteva un serpatorio un serpatorio a cumulo con una bomba dedicata per sollevamento acqua nell'intera zona ammagelli nel 2021 è stato sospedito l'intero sistema ormai a questo letto con bombe e booster gemellate una che riserva l'altra migliorando di molto le versazioni e la versione dell'intero porto scusate poi abbiamo prezioni rosciano anche rosciano è una prezioni di sollevamento presente due pompe una di riserva all'altra una da pochi giorni sostituita con un ex novo e si trasportano anche una vasca sito al punto più alto di rosciano dalla quale poi viene erogata nell'interna fazione elenco poi anche alcune delle ultime opere effettuate nelle frazioni e zone periferiche via folchia sembrano la pressione di intero di adubazione idrica ex novo con annessi e lanciamenti e l'utenze compreso l'intero mando stradale con asfalto via grazia galetta di pacimento dell'intero adubazione idrica ex novo con annessi e lanciamenti e l'utenze a breve intero mando stradale con asfalto vico vantolisi il pacimento dell'intera adubazione idrica ex novo con annessi e lanciamenti e l'utenze compreso intero mando stradale con asfalto collegamento viario marcotti scadettieri realizzazione ex novo dell'intera adubazione idrica con annessi e lanciamenti a lorenze via dei martiri del 1799 zona parche di ucchia gara effettuato su meppa a breve inizieranno i lavori adubazione e realizzazione adubazione ex novo con annessi e lanciamenti e lote inoltre e voglio concludere è stato presentato alla regione campania un progetto per il potenziamento ed adeguamento dell'intera dita presente su tutto il territorio comunale con annessi sistemi di gestione compreso la realizzazione di nove vasco di accumulo acqua un finanziamento che ammonta 6 milioni di euro grazie grazie consigliere la convenzione può dire che è velocemente il sindaco sulla convenzione la convenzione allora quando riguarda la convenzione abbiamo avuto una serie di incontri con gli organi del consorzio ma al momento attesa che il consorzio per la legge sta avviando la procedura per individuare un nuovo gestore noi ci siamo fermati ci siamo fermati anche perché col consorzio abbiamo fatto ragionamento al concorso a questi contro ultimo c'era anche la segretaria della direzione generale prima di poter valutare che è una valutazione che farebbe la visione come una convenzione c'è bisogno ancora di estendere e di estinguere il debito che il consorzio ha con il comune se non andiamo ad azzerrare il debito che il consorzio ha con il comune lui non possiamo passare alla faccia di creare una convenzione di associarsi all'intero consorzio anche se ovviamente penso che nell'alto di quest'anno la regione campagna andrà a individuare un nuovo gestore dove noi tutti i comuni sono obbligati a tenere quindi viene meno anche quello che è il convenzionamento con il città grazie sindaco la parola al consiglio per dichiarare se è stato il consorzio è stare su una trasformazione in società per le azioni questo potrebbe essere controproducente per noi perché i debiti si danno si scelta la regione campagna su questo cerchia di darci solo di perché altrimenti stiamo tutti per quanto contiene invece la risposta del consigliere legato io vi faccio loro da tecnicamente poste finestre tutti ci stanno ci devono essere per forza il busto è rato letto ci deve essere per forza nell'ultimo mese si è rorto due volte a priori la stessa cosa ci siamo visti cosa si sta facendo e se vogliamo poi andare oltre è stato fatto si sta facendo il lavoro su una nazionale c'è un dubbio da 200 vecchi di 100 anni però probabilmente ce ne siamo dimenticati potevamo sostituirlo potevamo sostituirlo però siamo a quelle coste potevamo sostituirlo a noi interessa l'attenzione su questa cosa è che questo problema non avvenna perché dopo tutto questo che c'è siamo stati due giorni senza atto a 40 anni non abbiamo puntato il dito stiamo cercando solo di capire cosa si sta facendo visto che in 30 anni abbiamo avuto gli stessi problemi tutto qua grazie bene consigliere 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 di morirlo mette agli atti la relazione sì grazie se la vuoi consegna alla segretaria così la mettiamo agli atti passiamo quindi al punto numero 5 dell'ordine del giorno tariffetari 2022 modifica della delibera di consiglio comunale 32 del 21 maggio 2022 riferimento termine di discussione negli scute l'assessore esternomica del uso buonasera a tutti sono sotto voi dell'approvazione consigliere uno semplice riferimento della scadenza delle rate tari giacché con delibera di consiglio comunale del maggio quest'anno avevamo deliberato quattro scadenze per il pagamento della tariffa della tari precisamente prima rata al 21 luglio seconda al 31 agosto terza rata al 30 settembre e quarta rata al 31 ottobre per agevolare le operazioni di recapito delle bollette abbiamo rinunciato a spostare di un mese in avanti il pagamento della prima rata quindi tutto deve riferirsi spostato in avanti di un mese pertanto la prima rata sarà dovrà essere pagata entro il 31 agosto 2022 la seconda entro il 30 settembre la terza entro il 31 ottobre 2022 e l'ultima entro il 1 dicembre 2022 voglio approfittare e ricordare ai consiglieri nonché alla cittadinanza che nella bolletta che sarà recapitata ai cittadini sarà contestualmente indicato oltre all'importo da pagare per la tari nell'anno 2022 anche eventuali pendenze relative agli anni precedenti 2020 e 2021 in modo che il cittadino possa evitare eventuali sanzioni per il futuro ricordo ancora che la tari è pagabile oramai in moltissimi canali postali bancari nonché anche sul sito dell'ente con la carta di me null'altro grazie assessore anche denunzio c'è qualche intervento allora passiamo subito alla votazione chi è favorevole a questa modifica ad una limità si vota in maniera favorevole per l'immediata esegibilità chi è favorevole ad una limità è approvata l'immediata esegibilità si passa al numero 6 l'ordine del giorno ratifica prima variazione d'urgenza di bilancio 2022-2024 sempre l'assessore Michele Musso che c'è la esegibilità eccoci sono a sottoporre all'approvazione e consigliare la ratifica della delibera di giunta numero 121 del 22 giugno 2022 di variazione al bilancio previsionale 2022-2024 con la quale si vese necessario implementare alcuni capitoli e prevedere ulteriori finanziamenti ricevuti dall'ente la ratifica per legge deve essere fatta entro 60 giorni dall'adozione della delibera di giunta e pertanto sottoponga all'assemblea dei consiglieri la ratifica della delibera in maniera in maniera grazie al sessore c'è qualche intervento passiamo quindi alla votazione della ratifica chi è favorevole? chi è contrario? nessuno chi si è astenuto? 3 assente consiglieri del giorno salvaguardi i libri di bilancio 2022-2024 ai sensi dell'articolo 193 del decreto legge numero 267 del 20 e contestuale variazioni di bilancio l'assessore mi rannunzo prego e a facoltà e a facoltà di esperienza del consigliere Pasquale vice dunque come ogni anno nel corso dell'anno solare la norma impone agli enti di verificare la permanenza degli equilibri di bilancio e anche quest'anno come il nostro solito tempestivamente siamo a sottoporre all'approvazione del consiglio la permanenza appunto degli equilibri di bilancio giacché non vi sono deficit non vi sono particolari criticità non vi è nessuna criticità e pertanto permangono gli equilibri di bilancio anzi vi è da dire che si ritiene necessario applicare la quota dell'avanzo di amministrazione e implementare nel contempo quei capitoli di spesa relativi alle priorità che il comune ogni anno si impone che sono la scuola che sono la manutenzione degli edifici comunali degli edifici scolastici della viabilità della pubblica illuminazione della segnaletica e infatti l'amministrazione ha risultato applicare l'avanzo di amministrazione per circa 40.000 euro per la segnaletica luminosa per i semafori circa 100.000 euro in più per la manutenzione degli edifici comunali scolastici che si aggiungono agli oltre 100.000 euro già stanziati con il bilancio di previsione 2022 abbiamo ritenuto di investire 30.000 euro per la manutenzione dell'area gioie e verde località schiavetti abbiamo investito anche 40.000 euro per potenziare la pubblica illuminazione la sicurezza sui luoghi di lavoro senza tralasciare ovviamente quelle che sono le attività della cittadinanza e in particolare dei giovei con la settimana dello sport per la quale abbiamo previsto un ulteriore stanziamento di euro 15.000 dunque una delibera volta ad accertare a verificare la permanenza del bilancio e nel contempo volta a potenziare le attività già abbondantemente previste con l'approvazione del bilancio previsionale nel maggio del 2021 grazie grazie assessore c'è qualche intervento sindaco nel facoltà prego sono chiesto i ringraziamenti all'assessore al ragionare all'intera struttura perché oggi ho visto proprio i libri che qualche comune si accingeva ad approvare il bilancio noi i tempi diciamo il rispetto dei tempi oltre ad aver approvato il bilancio e nel vivo oggi approviamo il bilancio questo dimostra che al di là degli interventi che faremo in modo di il bilancio qualcuno abbiamo un'attenzione importante rispetto alla nazionale Pasquale si ricorderà che noi avevamo presentato in regione un progetto di 6 milioni dove andavamo a prevenire anche i nostri servizi la regentria e la tuba di illuminazione e altre una condotta libera per eventuale altre attività purtroppo la regione campania ci finanziò per 6 milioni perché riteneva rispetto a quello che erano 3 km 800 il tratto della nazionale era il massimo finanziamento che potevamo per cui non era possibile poter andare oltre e rimane in piega alcuni tratti di rete idrica anche perché ci hanno approvato la realizzazione di qualche marciapiemi di rete fognare di collettori non ci hanno approvato la realizzazione di alcuni tratti della rete idrica e l'intera pubblica di illuminazione siccome a settembre si aprirà nuovamente l'SFC e la nostra nazionale è l'unica che collega così come abbiamo detto nella conferenza con il governo la settimana scorsa chiederemo di un intervento per fare in modo di andare a migliorare questo piano tratti che oggi collega ancora fino a quando non si realizzerà questa benedetta collagamento marcianese Paolo più ricastrate che collega la Puglia con la Campania e la Polizia con quella di Casetta rispetto agli interventi una volta abbiamo oggi messo a disposizione altre somme come diceva l'assessore al bilancio ma nei prossimi giorni partirà un piano per oltre 200 mila euro per andare a riqualificare una serie di strade comunali via Cappio via Ferdinandaragona via Panoramica via Rosciano via Stolella via Delegio quindi faremo un'attività importante su quella che è la viabilità interna dopo di che andremo a fare una serie di attività infrastrutturali tra tutti mi piace dire in questo consiglio andremo a riqualificare l'intera piazza Umberto Pinto per cui faremo una serie di interventi faremo una serie di interventi atti ad andare a riqualificare la vita del nostro territorio è partito un programma per quanto riguarda i parchi gioco abbiamo fatto un primo finanziamento inizieremo da Schiavetti con la trasformazione dai giochi attuali in alluminio così poi passeremo alle altre piazze partendo come secondo me nel parco di Ucina nei prossimi giorni credo non possiamo adesso andare a realizzare interventi pubblici andremo ad aprire quella che è un'area importante nel comparto di via D'Avo dove abbiamo realizzato un'area parto giochi e effettivisti che pensi li apriremo a breve continueremo a lavorare con la collaborazione dove si vengono andare a migliorare quelle che sono le nostre prestazioni per rendere la maggiore possibilità alla nostra comunità grazie grazie sindaco ci sono altri interventi consigliere Pasquale Crisci prego me a facoltà sindaco per la nazionale potevamo anche coinvolgere il consorzio visto che è in debito con lui però aspettiamo settembre per rifarla di nuovo per iniziare da caldo io dico questo va bene la programmazione ma oggi abbiamo 7-8 cantini in essere e nessuno vede la luce l'ufficio tecnico purtroppo sappiamo che è chiuso e non so ci sta qualcuno a dire siamo scortuati ogni volta che veniamo non vediamo nessuno però l'ufficio tecnico ti telefonerò va bene noi ci aspettiamo che i cantini aperti vi danno la luce dopo di che possiamo e avete sempre il nostro appoggio però ad oggi abbiamo un paese totalmente a metà cerchiamo di chiudere qualche opera e poi le prossime ci dicevamo a di più credo che chi svolge attività amministrativa oggi in Italia sono bloccati 60.000 cantieri lo sappiamo tutti e lo Stato è intervenuto col P350 per andare a rivedere i prezzi perché sappiamo tutti che la materia è aumentata in maniera esporiziale chiaramente le difficoltà che vive in Italia le vivono anche a Santa Maria V con la nazionale siamo andando avanti con sicuramente con l'intenza ma l'obiettivo principale è quello di far realizzare un'opera a regola d'arte e credo che ci dovete dare attra che stanno facendo un'opera fatta per bene in terra nazionale basta parlare a competenza avere una strada dove si realizza il lavoro che si fa sull'autostrada la fibra ottica 25 cm di asfalto il tappetino che adesso complessa fino alle proprietà privati e ovviamente due ingressi che saranno l'orgoglio di Santa Maria Vita sia all'ingresso da Cattina Svichela dove c'è il barro di Cung sia all'ingresso di via dell'artese della Masseneto Vesto dove saranno oltre a riqualificare la nazionale che è la prima cosa e oggi i cittadini vi stanno dicendo che stanno dormendo da 30 anni non riuscivano a dormire con lesioni conosci bene la storia di queste famiglie che vivono sulla nazionale oggi stiamo raggiungendo quello che è il massimo di quello che potevamo rire da questo finanziamento anche perché no con l'avventimento e creare nelle condizioni che quando si arriva a Santa Maria Vita sia in un paese che ha l'orgoglio di dire dignitosa anche per quanto riguarda la via vita è chiaro che ci sono delle difficoltà in particolare in questo momento con alcuni cantieri noi riteniamo che con la struttura domani mattina chiuderemo i collochi per assumere ancora un ingegnere un ingegnere a tempo indeterminato e altri due giorni che credo che la struttura tecnica la stiamo adeguando per quella che è la sfida del PNRR per cui ce la mettiamo tutti che sono delle difficoltà difficoltà che abbiniamo con il passetto dello scopo difficoltà che abbiniamo con il piano di Giacomo Leopasta ma chiaramente noi ce la mettiamo tutta per fare in modo di superare le difficoltà e di creare le migliori condizioni per fare i partiti di cantieri che oggi oggettivamente le ditte che vogliono lasciarle che non rientrano in quanto le spese sono enormi il ferro andava a 45 centeschi ma a 1,50 euro quindi se non si trovano i fondi per andare a ricoprire le spese ovviamente i cantieri si perdono e non so e non so che si trovano la stabilità del paese non solo Sant'Alelli ma del paese Italia dovrebbe essere tale da evitare scossoni al PNRR e magari a queste prego consigliere della scienza dei piscinelli di questa esposizione perché in effetti la via nazionale è diventata quasi l'argomento di tutti perché non si riesce a capire perché non si riesce comunque ottimo lavoro io so che stamattina lei e alcuni tecnici erano appunto sulla nazionale adesso c'è la rotonda sulla parte nora e proprio per questo mi hanno mandato un messaggio dicendo guarda stasera il consiglio comunale è di quel ma non capiscono che in effetti se non è che non si potrebbe dire ma colpo l'occasione perché dicono che in effetti la rotatoria garantisce un rallentamento dei mezzi pesanti quando passano però dopo le macchine subito sfrecciano per superare i mezzi è diventato un po' pericoloso perché i 90 loro poi spinano e cercano di superare i cambi ma questo ovviamente al centro del dratti si è fatto di piano ma bravissimo ma per un'altra cosa quello che io invece volevo sapere è se verranno installati su questo tratto che è abbastanza lungo attraversamenti pedonali luminosi e sonori per i disabili quello che lo sapete ottimo grazie grazie consigliere Viscitelli c'è qualche altro intervento passiamo quindi alla votazione chi è favorevole al salvaguardi equilibri di bilancio 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 per l'immediata eseguibilità chi è favorevole 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 passa quindi anche l'immediata eseguibilità dopo questi punti all'ordine del giorno ci ritroviamo 6 sentenze di riconoscimento debiti fuori bilancio che ci espone magari come il solito tutti insieme la consigliera Tiziana Pascarella per poi votarli singolarmente e approvarli prego grazie Presidente buonasera al Consiglio Comunale i presenti allora i debiti fuori bilancio che sottoponga l'approvazione consigliare che sono posti all'ordine del giorno dall'8 al 13 hanno ad oggetto 6 sentenze emesse rispettivamente 4 dal giudice di pace di Alienza e 2 dal tribunale di Santa Maria Capovedere ovviamente sono debiti rispetto al quale il Consiglio Comunale non può entrare nel merito in quanto la legittimità è stata già anclarata da un giudice in questa fase può esercitare soltanto una funzione ripognitiva al fine di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che si è verificato all'esterno e quindi evitare ulteriori conseguenze dannose che potrebbero verificarsi in caso di pagamento ritardato allora in particolare la sentenza posta all'ordine del giorno numero 8 unitamente alla sentenza posta all'ordine del giorno numero 9 hanno ad oggetto delle opposizioni avverso alcuni verbali di accertamento in particolare la sentenza numero 324 2021 ad oggetto un verbale di accertamento del 2019 e in questo caso il giudice di pace di Arienzo ha accolto l'opposizione condannando l'ente a pagamento delle spese processuali liquidate in 203 euro o tre o nei accessori la sentenza posta all'ordine del giorno numero 9 invece la numero 120 del 2022 ad oggetto sempre un verbale di accertamento di violazione al codice della strada del 2019 e anche in questo caso il giudice di pace di Arienzo ha accolto l'opposizione condannando l'ente al pagamento di euro 183 o tre oneri accessori per quanto riguarda invece i debiti di bilancio posta all'ordine del giorno numero 10 e numero 11 hanno ad oggetto delle lesioni derivanti da insidio e trabocchetto ovviamente in questo caso come già rilevato precedentemente sono fatti risalenti al 2017 rispetto al quale questo ente poi ha adottato alcuni accertamenti creando un ufficio ad hoc formato da un membro dell'ufficio manutenzione dell'ufficio polizia municipale dell'ufficio legale che in effetti esercita un controllo periodico sul territorio per quanto riguarda la sentenza numero 161 del 2022 messa dal giudice di pace di Arienzo ad oggetto risarcimento per danni derivante da un cattivo stato di parimentazione e in questo caso l'ente è stato condannato al pagamento di euro 831,08 interessi legali fino a soddisfo in favore dell'attrice al pagamento di euro 493 oltre a ogni accessori nei confronti del difensore e in favore di unati invece di complessivi euro 450 la sentenza invece posta all'ordine del giorno numero 11 la numero 91 del 2022 ad oggetto risarcimento danni sempre da cose in custodia e in questo caso l'ente è stato condannato al pagamento di euro 551,31 per il danno patito e al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 450 oltre a ogni accessori per quanto riguarda invece il debito fuori bilancio posta all'ordine del giorno numero 12 la sentenza numero 1366 del 2022 in questo caso l'ente è stato condannato al pagamento di euro 6.094,50 apparentemente può sembrare una sentenza sfavorevole invece è stato un successo per l'ente perché nel caso la parte aveva citato il comune giudizio per il disarcimento pari a euro 90.000 e la difesa dell'ente invece in questo caso per fatti risalenti all'11 settembre 2011 è riuscita comunque vittoriosa e in questo caso l'ente è stato condannato a pagamento di soltanti euro 5.000 oltre interessi legali sino a soddisfo per i soli danni che erano stati accertati dai lici del fuoco in seguito a un intervento perché riguardava un incendio di vampato in alcuni terreni comunali in questo caso quindi sono 6.094 con compensazioni di spese legali per quanto riguarda invece l'ultimo punto posto all'ordine del giorno numero 13 è la sentenza numero 3.227 del 2021 emessa dal tribunale di Santa Maria Capovetere con cui in effetti l'ente aveva citato in giudizio un soggetto a fine di ottenere l'istituzione delle somme del contributo ex legge 219 del 1981 quindi il bonus per il sisma dell'80 ma in questo caso l'ente in effetti la domanda è stata respinta e di conseguenza l'ente è stato condannato al pagamento però delle spese legali in euro per i 1.650 perché è rapportato ovviamente allo scapione della causa fino a 250.000 euro di conseguenza è guido il consiglio comunale a sottoporre l'approvazione grazie consigliere Pascarella c'è qualche intervento prima di passare le votazioni nessun intervento allora sentenza numero 324 del 2021 presso giudice di pace di Alinzo chi è favorevole 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 per l'immediata eseguibilità chi è favorevole 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 basta anche l'immediata eseguibilità sentenza numero 120 del 2022 numero 9 all'ordine del giorno chi è favorevole 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 per l'immediata eseguibilità chi è favorevole 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 consigliere 4 passare l'immediata eseguibilità sentenza numero 161 del 14 4 2022 giudice di pace chi è favorevole 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 immediata eseguibilità chi è favorevole 11 chi si astiene 4 chi è contrario nessuno passa anche l'immediata eseguibilità sentenza numero 91 del 13 2 2022 giudice di pace di rinzo chi è favorevole 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 per l'immediata eseguibilità chi è favorevole 11 chi si astiene 4 chi è contrario nessuno passa anche l'immediata eseguibilità punto numero 12 è l'ordine del giorno sentenza 1366 di domica 22 del tribunale di santa maria capovetere chi è favorevole 11 chi si astiene 4 chi è contrario 0 passa la sentenza numero 1366 passiamo per l'immediata eseguibilità votiamo chi è favorevole 11 chi si astiene 4 chi è contrario nessuno sentenza numero 3227 del 2021 del tribunale di santa maria capovetere chi è favorevole 11 chi è contrario nessuno chi si astiene 4 per l'immediata eseguibilità chi è favorevole 11 chi si astiene 4 chi è contrario nessuno passa anche l'immediata eseguibilità ultimo punto all'ordine del giorno seppur non ultimo in termini di importanza è l'approvazione del nuovo schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace di arienzo ce l'espone il consigliere mercantone che dara grazie mi ha fatto portato buonasera ci troviamo di approvare di nuovo uno schema di convenzione per il maggiorimento di giudice di pace ovviamente se siamo a questo punto non è certo per colpa nostra ma per te l'ultima convenzione non è che un vicore dopo le dimissioni che si prese avviene la nomina del commissario prefettivo che ha scelto dei grassi fuori proprio per motivi economici dalla convenzione per questo c'è bisogno quindi di una nuova convenzione tra i due comuni il comune di arienzo sarà anche il comune capofisio e il comune di Sancavanino e frisco in realtà se non c'è nulla di nuovo ovviamente scendendo da tre comuni a due comuni i costi sono cambiati e quindi ovviamente i costi del personale distaccato rimangono a carico nell'ente distacca il personale i costi di gestione sono al 50% fra i due comuni quindi ucchietese e spese varie ovviamente essendo l'ufficio di giudizio di pace il plesso è un obbligato l'ufficio di giudizio di pace di prosecà nel comune di arienzo la manutenzione ordinale è straordinaria aspetta al comune di arienzo sono state fatte altre previsioni nel caso in cui si ha disposto una posizione organizzativa o nel caso in cui le esigenze della cancelleria e il numero quindi consensioso cresca o il progresso dell'integrazione di personale o la nomina di una posizione organizzativa in quel caso di un'altra ricorsa non è partita di acciugata per sempre credo che non ci sia altro da aggiungere c'è l'approvazione perché noi siamo sempre espressi a favore di questo presidio di tracate quindi c'è l'approvazione dell'unanimità grazie consigliere c'è qualche intervento nessun intervento allora passiamo subito alla votazione chi è favorevole all'unanimità viene approvato il nuovo schema di convenzione per il giudice di pace di arienzo finisce qui il consiglio comunale voglio ringraziare tutti gli intervenuti ovviamente i vigili urbani la protezione civile il nostro il nostro ragioniere il dottor commercialista che ci aiuta con la tecnologia e la dottoressa Iollo a cui auguriamo delle buone vacanze grazie oltre ovviamente all'ufficio manutenzione che è sempre attento ad organizzarci al meglio la sala buonasera da tutti e buone vacanze agostate